Siamo qui con Enzo De Lo Iacono per festeggiare i 30 anni di Big Party. Dopo 30 anni, voglio dire, comunque è un'anniversario importante. L'azienda ha avuto tante trasformazioni. Era nata anche prima di chiamarsi Dima, Big Party e adesso. E quindi la trasformazione neopostante che ci distingue un po' da tutto il resto. Quindi futuristicamente ci saranno altre trasformazioni. Per quanto riguarda la serata, è una serata solo divertimento. Non chiediamo nient'altro che un sorriso. Irene, questo anniversario importante caratterizza un po' lo spartiacque, no? Tra il passato e tutto quello che vi attende per il futuro. Cosa vi aspettate appunto dal futuro che arriverà a attendere? Sì, a tutti gli effetti è uno spartiacque. Noi non vediamo l'ora di intavolare i nuovi progetti, iniziare una nuova era di Big Party. Quella che è passata è stata sicuramente importante. Abbiamo appunto tantissimi primati di cui andiamo fieri tra il piattino del primo compleanno, come dicevamo. Siamo veramente fatto strada ad un party tutto italiano e non vediamo l'ora di poterlo fare alla nostra maniera, alla maniera di Big Party del Made in Italy, o meglio del design Made in Italy, ed esportarlo perché no anche al di fuori dell'Italia. Quindi ci auguriamo di diventare ancora più grandi e l'augurio è quello che il party non finisca, quindi la festa continua. Come ci piace dire, non vediamo l'ora di rivederti da queste party. Come ci piace dire, non vediamo l'ora di rivederti da queste partite.